Un maestro orafo conosciuto in tutto il mondo, dove ha sempre portato alto il nome di Piacenza della sua terra. Sarà Giulio Manfredi, l'ospite di questa sera nel Mirino, la trasmissione di Telelibertà condotta dal direttore Nicoletta Bracchi. Nel corso dell'intervista Manfredi ripercorrerà la sua storia personale e professionale, partita da Solaro di Ferriere e arrivata grazie alle sue creazioni a New York, Shanghai, Tokyo, Londra e non solo, portandolo a contatto con i più grandi personaggi a livello nazionale e internazionale. Un successo che non ha mai fatto perdere al maestro orafo il legame con le sue origini, di cui anzi si è sempre fatto vanto per i valori che sono riusciti a trasmetterli. Appuntamento alle 21 con Nel Mirino su Telelibertà.